I libri escono allo scoperto, vengono letti ad alta voce fuori dai luoghi consueti e indirizzati ad un pubblico più vasto di quello che di solito li apprezza. Stamattina sotto i portici del municipio la freschezza e l'entusiasmo di 29 studenti lettori del triennio del classico linguistico statale Petrarca hanno coinvolto i passanti nell'ascolto di alcune delle novelle più avvincenti del Decameron di Giovanni Boccaccio. Il museo petrarchesco Piccolo Mineo con la maratona di lettura aderisce alla campagna nazionale Il Maggio dei Libri promossa dal centro per il libro e la lettura del ministero per i beni e le attività culturali del turismo sotto il patronato della presidenza della repubblica. La scelta del Decameron di Boccaccio come lettura salda la tradizione scolastica con l'attività svolta dal museo petrarchesco Piccolo Mineo dove allestita la mostra se un solo pane avessi sarei lieto di dividerlo con te l'amicizia fra Petrarca e Boccaccio a sottolineare il legame che unisce Trieste e la tradizione petrarchesca ma intercetta anche la volontà di leggere non soltanto ciò che è moderno e contemporaneo poiché il fascino dei classici resta eterno. Perché noi pensiamo che funzionino ancora ai ragazzi in classe sono piaciuti è piaciuto leggerli nel contesto scolastico che sembra un po più squallido e questa volta proviamo a leggerli fuori per la cittadinanza.